3 Oh madonna della luce Sabina ma si vuole? Oh no, ritorno alla... Oh! Oh, domino! Oh, Dio! Ok, oggi il pranzo è offerto dolcemente da Friskies Frina! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Io sono Gianmarco ed oggi ho un ospite speciale E' tornata la magica, magica Sabrina La magica Sabrina che avete visto per la prima volta nel video Provo la tavola Luigi oppure non fate la tavola Luigi Insomma, un video che vi dico qua o qua è un video di molto tempo fa Per oggi è voluto tornare con me Per fare una cosa meno drama Per fare una cosa meno drama ma sempre demenziale allo stesso livello Ossia sono andato a comprare in edicola tutti questi fidget flip Se non sapete cosa sono i fidget flip Sono i giochi del momento Il giocatore del momento è il nuovo fidget spinner Questi qua li ho trovati in edicola E sono by Shoki Benz, officina edicola Ditto a Youtube non ho fatto che parlare di sti cacchi di cose Quasi quando li ho visti ridicolo ho fatto Oh mio dio devo averli, devo provare, devo farci un video Quelli abbiamo preso vari colori La Sabrina si è già accaparata e il rosa Mi piace anche il bianco Ah si? Qua c'è il green Poi c'è il yellow, l'orange E il ble Il verde anche Però quello che abbiamo visto online Il tucchetto, il giochetto Non siamo tanto bravi Cioè, oh mio dio, è partito da solo A vita proprio, è sempre nella tavola qui c'è un segnale Mamma mia, sono posseduti anche i Shoki Benz Sono posseduti anche i Shoki Benz, naga E il tucchetto principale, quello più facile E' questo Ciao, arrivederci Flippalo Così Oh mio dio che a me è una nuova sole Però ho visto tante persone che fanno questa cosa qua Sabrina Oh mio聊 E majiglia No, no.ritorno alla Oh,ان un bel ptaglio Ahaha Così, col palmo della mano E' là là LA Magia,magia,magia E' un po' e' fretto boomerai Ci facciamo delle sfide tra di noi Per rendere il tutto un po' più ubrioso, gioioso e pericoloso Chiederò a voi Si, per mettere un po' di dramma Chiederò a voi raga su Instagram E se volete seguirmi su Instagram Io mi chiamo Gianmarco Zagatto E si chiama Sabrina Busso Ve le scrivo qua Su Instagram di darmi delle penitenze Per questa challenge Ossia chi perde c'ha una penitenza Ciao raga Io e la magica Sabrina Stiamo registrando una super challenge E vogliamo chiedere a voi delle sfide Anzi delle penitenze Scrivetemi delle penitenze per chi perde Prima challenge A chi lo fa girare di più Ah beh sono uno di più Specialmente fa girare le balle Yeee Allora Penitenza Facciamo la bella Facciamo la bella Anzi facciamo alle due di tre Vai Uno, due, tre Qualcuno ha vita propria Si Dai la bella della bella Uno, due, tre Via Ma vai ha vinto la sabina Ormai ha vinto la sabina Sì perché sono in maranata E ho vinto Un tuo follower Ti dice Allora Leggere una notizia del giornale E cantarla nella canzone più in voga Ah e lei scegli te la notizia e la canzone Ovvio Ho trovato la notizia per te Che è Pensioni, ultime notizie, ape E si c'è ape Ma che ne so io Con le note di Look what you made me do Pensioni, ultime notizie, ape E Anticipata, raccolta, firme, se Estensione Pensioni, ultime notizie Ultime notizie Pensioni, ultime notizie, pensioni, ultime notizie Stai attento Perché mi vendicherò Sono preso da tantissimo fastidio E voglio vendicarmi sulla sabrina Quindi adesso io voglio lanciare i miei cosi In testa mia Anche Però non lo farò E No voglio colpire i tuoi cosi Dai Ah ah Scontro Scontro venditari Opa coppa della luce Sabina ma sei buone Allora sfida a tre A chi lo fa durare di più A chi gli fa girare di più Ok One Two Three Palesemente i miei hanno vinto Facciamo la bella della bella Allora aspetta Three Go Ho vinto io No ma lo sta ancora girando No ma lo sta ancora girando No ma cosa stai dicendo Ma è falsità I miei Sì ma Tumor Panda dice Chi perde deve mangiare dei croccantini per cagli o per gatti E poi noi ce l'abbiamo Se per cagli e per gatti Quindi facciamo un bel mix Ok oggi il pranzo è offerto dolcemente da Friskies Molina Bello assaggio anche te Com'è buonissimo Raga gli piace Ci scomento quello che volete Non c'è da niente Ok ho preso un pisellino Non c'è da niente Ma è duro come marmo Come fare a mangiare questi gatti Ma povere bestia Anzi T'ho mangiato come questo Comunque lo assaggiamo Le vedete puzzano in una maniera abominevole Allora dobbiamo impegnarci a fare questa cosa qua Del prenderlo Ok lo riesco a fare una volta e basta Oh mio Dio Adesso Siamo tutti Sta Avanti Raga voi siete Oh Oddio Allora il primo che riesce a fare un doppio flip con tre fidget flip Sceglie la penitenza dell'altro Eh 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 Faccio Vai Ecco Guardino Eh Eh Ah 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 Video canta 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 Ah Allora guarda anch'io Stasazze Siate buoni ragazzi Siate buoni Ammazza quante Allora ragazzi avete il nuovo fantasie Un sacco di fantasie Allora come dice Se perdete tutti e due Vi baciate Tanti siamo amici Cioè Dai Ah questo qua era il video della magica sfida shock event fidget flip però ti sei divertito? no si mi sono divertito la mia parte preferita è stata mangiare i crocantini no in realtà se tu ci metti un po' di impegno con queste cose li riesci a far funzionare ci giocherai tutto il giorno adesso è diventata una sfida con me eh se vuoi i due te li regalo vai quale vuoi scegliteli però i più belli lo sapevo io yeah nella box c'è anche scritto come utilizzarlo e farlo flippare nel miglior metodo e anche quanti colori potrete trovare disponibili per creare il vostro arsenale preferito fateci sapere nei commenti se voi avete qualche sfida interessante che non abbiamo fatto esatto e qual è il vostro trick preferito da fare con i fidget flip se vi va mettete un pollice su a questo video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e c'è un nuovo video ogni martedì alle 15 e ogni sabato alle 10 e 30 e intanto il giovedì per questo giorno siamo in su poi possiamo chiedergli da sabrina tu lo sai no io vi mando un bacione scherame grande e al mio prossimo video ciao 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 ciao